C'è Sabrina in partaglio eh! No perché guarda lui! Ma che colpazzo non aveva le barba? Mi dà le sciarpa a passi! Dai, prende una folle, dai! Questa è la super star del Bruno, eh! Dai, dai! Dai! Ma c'è il genio che da sempre no, no! E tu sto per il tuo ragazzo! No, no, il tuo ragazzo! Ora è 59! Ma hai fatto 26, 90? Ma hai fatto un ragazzo? Ma hai fatto un ragazzo? Non vede la calzata, i balli di gruppo! Sono facili! Ma non c'è uno! Ma non c'è uno! Ma dai! Non ci è! Perchè non c'è un ragazzo! Ma non è la fuga! Ma non c'è uno! Ma non c'è uno! Ma non c'è uno! Ma non c'è uno! Ma non è quello che dà le cose! Ah no, ma speri. Ma ogni tanto fai altri simboli che metti la croce, ma sono delle cose particolari. Grazie a Sabrina, mi piace il pezzo a me. E lui no! Ma vai Francesco, Francesco, dai! Ma vai, tanto è una spezzata! E vai, scendi cosa dovrei fare! E adesso fa bene! Vedi, se ti appare la scelta stop non ti devi muovere! E, 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 e... E poi, e quello di battere le mani... Come di sapere così? Agile, grazie a te le comando Wink. Ma non è vero che? Ma è troppo facile! Ma è troppo facile! Non è vero che si valli quando stiamo male. Hai beccato una bomba! Grazie! Grazie! Grazie!